Torniamo signori a parlare dell'Isola dei Famosi, parliamo della coppia che sta facendo discutere parecchio, ovvero Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone, che non sono più concorrenti dell'Isola. Il primo praticamente si è ritirato per problemi di salute che l'avevano costretto a saltare l'ultima diretta che c'è stata, mentre il compagno, che già aveva minacciato, quindi aveva già detto di non voler proseguire questa avventura da solo, lo ha seguito a ruota, insomma ha aspettato l'occasione giusta. Addio Honduras per tutti e due, ne sentiremo ancora parlare ma non li vedremo più. Probabilmente lunedì la Riblasi darà spiegazioni in merito ma intanto le indiscrezioni su questo abbandono viaggiano veramente a una velocità sconcertante. L'ultima arriva da Ivan Rota, che su Dago Spia ha svelato cosa ci sarebbe dietro. Tanti commenti sui social di persone felici per l'abbandono di Alessandro Cecchi Paone e del fidanzato Simone Antolini che hanno lasciato l'Isola dei Famosi, secondo alcuni, i due si sarebbero messi d'accordo a telecamere spente pur di non proseguire il gioco. Si dice anche che Antolini non potesse rivelare niente sulla figlia Melissa di 4 anni anche perché ne aveva parlato già troppo. Un commento su tutti. La verità è che Cecchi Paone che non fa niente dalla mattina alla sera non sarebbe sopravvissuto senza il suo compagno. Lo chiamano uomo di cultura ma fa sempre pessime figure, si legge ancora. Quindi si sarebbero messi d'accordo? E poi, qualcuno prenderà il loro posto ora che hanno lasciato l'Isola dei Famosi 2023? Per il giornalista di Dago Spia la loro uscita di scena, apre una nuova possibilità a due nuovi concorrenti che potrebbero presto sbarcare a Caio Cochinos. Ma non secondo il collega e autore TV Gabriele Parpiglia, chiaramente non entrerà nessuno al posto di Cecchi Paone e compagno. Altra opportunità tolta. No comment, ha scritto su Twitter. Sempre per Parpiglia, poi, il ritiro di Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone è una sconfitta gigante. Il motivo, non sono squalificati, ma ritirati. Se è vero come ha detto Alessandro che la trattativa era chiusa a settembre, significa che chi fa i casting, sempre le stesse persone da secoli, devono farsi da parte. Quando prendi una coppia devo valutare quella che chiamo variante dalla Z, ovvero nessun errore per non perderli entrambi. No comment, continuate così, togliendo opportunità ad altri. Deve cambiare la musica, non professionisti. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.